Buonasera, bentrovati al TG per sordi. Due famiglie cinesi, da poco rientrate dal loro paese di origine, sono in quarantena volontaria a Portoferraio, all'isola d'Elba. Ad annunciarlo una delle due famiglie che gestisce un esercizio pubblico nel capoluogo elbano, esponendo un cartello che avvisa i clienti. Siamo tornati, stiamo tutti bene, dobbiamo fare 14 giorni di quarantena volontaria per ulteriore sicurezza verso la clientela. Le due famiglie, come riporta oggi il Tirreno, sono tornate all'Elba i primi giorni di febbraio, dopo aver festeggiato in patria il capodanno cinese e non hanno mostrato alcun sintomo che potesse far pensare a un contagio con il coronavirus, né in Cina né al loro rientro in Italia. Una volta arrivati sull'Elba, i figli sono rimasti a casa. La circolare ministeriale, infatti, prevede che il dirigente scolastico, informato dalla famiglia dell'imminente rientro a scuola di studenti provenienti dalla Cina, lo comunichi al Dipartimento Prevenzione della ASL che si attiva con le procedure per verificare il percorso, facendo trascorrere 14 giorni prima di tornare a scuola. Si è finto medico e insieme ad un complice ha truffato un'anziana di 82 anni, riuscendo a fuggire con 10.000 euro in oro e un orologio di valore. Dopo essere riuscito a farsi aprire la porta di casa dalla donna che abita in un appartamento di via Monet a Livorno, il finto medico, descritto come un uomo sui 40 anni di carnagione olivastra, con pizzetto e baffi scuri, si è fatto indicare con una scusa dove l'anziana tenesse l'oro. A quel punto ha fatto entrare un complice sui 25 anni che, una volta nell'appartamento, si è impossessato dei preziosi, riuscendo poi a dileguarsi insieme al falso medico. All'anziana, una volta resasi conto del furto, non è rimasto altro che denunciare il fatto alla polizia. Oltre 4.500 insegnanti preparati, grazie a tre mesi e 25 ore di formazione, più di mille nidi e scuole coinvolti. Sono i primi numeri di leggere forte, ad alta voce, fa crescere l'intelligenza. Progetto della regione toscana, realizzato con l'Università di Perugia, ufficio scolastico per la Toscana, INDIRE e Centro per il libro e la lettura. Un'iniziativa unica a livello nazionale per introdurre gradualmente nelle scuole la lettura ad alta voce. Strumento tanto semplice e accessibile, si spiega, quanto utile e potente in termini di sviluppo delle competenze cognitive di base di bambini e ragazzi, del potenziamento della loro capacità intellettiva, delle abilità relazionali, delle emozioni, dello sviluppo del pensiero critico. Dopo il lancio a ottobre di Didacta Italia a Firenze, si è ora conclusa la fase della formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia toscani e dei docenti di primarie e secondarie dell'Empolese e della Valdera, dove leggere forte viene introdotto in via sperimentale. Secondo le ricerche dirette da Federico Batini, docente dell'Università di Perugia, che cura la direzione scientifica di leggere forte, i bambini che ascoltano sin dai primi anni di vita un adulto significativo, leggere libri e storie, hanno maggiori probabilità di successo nel percorso scolastico e di vita. Una rissa tra detenuti è scoppiata ieri nel carcere di Livorno. Lo rende noto il segretario generale dell'OSAP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Leo Beneduci. La rissa spiega una nota scoppiata per futili motivi, ha visto fronteggiarsi detenuti georgiani e detenuti marocchini e tunisini nel reparto transito dell'Istituto ed è terminata grazie all'intervento degli agenti che hanno portato fuori dalla sezione un detenuto oggetto dell'aggressione. Oltre che per motivi di ordine e sicurezza le condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Livorno sono più che critiche, sottolinea Beneduci. E oltre agli evidenti rischi per l'incolumità fisica degli addetti del corpo, la situazione è resa ancora più precaria da una grave carenza di organico che rende pressoché impossibile fare fronte ai molteplici eventi critici più o meno gravi che quotidianamente accadono. Un sostegno alle librerie indipendenti per l'acquisto cooperativo dei libri nel rispetto dei principi del codice degli appalti. Lo prevede una delibera recentemente approvata dalla Giunta Toscana su proposta dell'assessore alla cultura e vicepresidente della regione Monica Barni che destina 1,2 milioni di euro per le 12 reti documentarie toscane. All'interno della libreria spiega una nota l'indicazione particolare di sostenere le librerie indipendenti nell'acquisto dei volumi. Le librerie indipendenti sono le nostre sentinelle della cultura e per questo vanno tutelate e rafforzate, sottolinea Barni. Abbiamo voluto dare un segnale con un'azione a favore per sottolineare l'importanza della loro funzione ma anche per promuovere la diffusione della lettura a vantaggio di una democrazia culturale e che tenga conto delle grandi potenzialità di questo settore. Da non sottovalutare che svolgono un ruolo strategico anche nell'ambito del patto per la lettura, per la promozione della lettura e della cultura, ma anche come strumento per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio. Chiudiamo con il meteo domani poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone centro-meridionali nelle ore centrali della giornata. Venti deboli variabili temporaneamente fino a moderati meridionali sull'arcipelago. Mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud. Temperature minime in lieve calo con locali gelate nelle pianure e nei fondovalle dell'interno. massime stazionarie o in lieve aumento. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.